Salve, sono il dottor Pasquale L'Oriacono. Nel video che segue vi mostrerò l'intervento per le nucleazioni di una cisti odontogena, dovuta cioè a una terapia canalare non correttamente eseguita. È stato fatto un tentativo di eseguire una terapia canalare corretta, ma la pressione positiva del liquido contenuto all'interno della cisti ha impedito il perfezionamento di questa terapia. Si è stati costretti così a eseguire un intervento chirurgico, la cui difficoltà era dovuta alla presenza del nervo mentoniero che è una struttura estremamente importante e che andava assolutamente preservato e questo si è potuto fare grazie all'utilizzo di strumenti sonici che sono particolarmente delicati e particolarmente precisi. L'intervento è stato poi impreziosito dall'innesto di concentrati piastrinici per favorire la guarigione. La terapia è perfettamente riuscita e il paziente ha potuto mantenere tutti i suoi venti. la terapia è perfettamente riuscita e il paziente ha potuto mantenere tutti i suoi venti. la terapia è perfetta e il paziente ha potuto mantenere tutti i suoi venti. la terapia è perfetta e il paziente ha potuto mantenere tutti i suoi venti. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.